Questo canale supportato da Collana Noveluci e Collana Idea. Vuoi pubblicare il tuo libro? Cerchi un editore? Contatto Noveluci Idea cliccando sul link in descrizione. Ciao ragazzi e benvenuti al Pizza Talk. 8 domande, un ospite, 8 fette di pizza. L'ospite di oggi è Carla Pirodono, classe 1972, giornalista e scrittrice. Ciao Ivano, sono felice di rivederti. Mando un caro saluto a tutti gli amici di Pizza Talk. Questa sera vi farò compagnia con una birra e con una pizza, gamberi e rucola, il che mangerò non appena avrò finito di parlare. Allora Carlo, com'è stata questa pandemia da giornalista? Allora, diciamo che in linea di massima questa pandemia sul momento mi ha azzoppato. Nel senso che io scrivo prevalentemente di eventi culturali per il cittadino di Lodi. L'ultimo evento a cui ho partecipato è stata la presentazione di un libro con annesso ct musicale verso la fine di febbraio e già in quel momento si parlava appunto di coronavirus, si cominciava a temere che succedesse qualcosa di grave. Tant'è vero che quando sono entrata in libreria ho salutato, perché la conoscevo, la libraia con affetto e scambiandoci consueti baci sulla guancia mi sono chiesta se fosse il caso visto il periodo che stavamo vivendo. Fortunatamente non è successo nulla. L'evento a cui ho partecipato trattava in modo quasi profetico di un breve romanzo incentrato su una misteriosa emergenza sanitaria da cui l'umanità stentava a ripartire. Devo dire che dopo essere tornata a casa per diversi giorni non ho potuto fare altro che continuare a pensare a quel libro. Come dicevo appunto questo evento, il coronavirus, mi ha azzoppato nel senso che tutte le manifestazioni di cui io dovevo normalmente parlare sul giornale non c'erano più. All'inizio mi sono sentita battuta poi ho cominciato a decidere di cambiare genere dovevo occuparmi chiaramente di qualcos'altro quindi mi sono concentrata sulle presentazioni librarie poi ho capito che la cultura si stava spostando in streaming allora a quel punto sono riuscita a scrivere un paio di articoli su eventi che hanno appunto avuto luogo via internet quindi diciamo che poi mi sono ripresa e questa è stata la mia esperienza proprio pratica legata alla pandemia. Ma esattamente cos'è una giornalista pubblicista? Un giornalista pubblicista è un giornalista che non ha un vincolo esclusivo con il suo giornale mentre un professionista svolge quel lavoro tendenzialmente come unico lavoro ed è dipendente del giornale quindi è inquadrato nell'organico di una redazione ed è legato ad orari di lavoro un giornalista pubblicista è esterno all'organico e può svolgere altre professioni nel mio caso si tratta di una collaborazione che va avanti ormai dal 2005 ma che a livello quantitativo è occasionale nel senso che appunto il mio compito è cercare in condizioni di normalità sul territorio degli eventi culturali da segnalare oppure fare recensioni di libri ecco oggi diciamo che la differenza fra giornalista pubblicista e professionista va un po' in alcuni casi assottigliandosi poiché ci sono alcuni pubblicisti che comunque di fatto vivono di giornalismo e hanno un rapporto continuativo con un giornale per me essere pubblicista significa svolgere un'altra professione infatti io sono dipendente di un ente locale nel tempo libero appunto mi diletto appunto di partecipare a conferenze, dibattiti, presentazioni di libri o concerti o spettacoli teatrali e poi appunto farne il resoconto, la cronaca e la recensione ho diciamo questa scelta appunto di incanarmi nel giornalismo è arrivata appunto abbastanza tardi nella mia vita nonostante mio padre sia un giornalista in realtà io non ne volevo sapere fino appunto al 2005 quando ho capito che era una strada che mi permetteva di un grande esercizio dal punto di vista della scrittura e che poteva farmi crescere dal punto di come scrittrice ecco perché il mio interesse principale è sempre stata la narrativa diciamo che il vantaggio del giornalismo è che vedi molto più velocemente il risultato del tuo lavoro mentre con la narrativa soprattutto se vuoi cimentare in un romanzo devi continuare a lavorare un continuo tagli e cuci rileggi correggi questa frase non va bene la voglio rifascritta così ecco e quindi il risultato si raggiunge con molta fatica in molto più tempo a me capire una cosa che mi sono sempre chiesto i giornalisti tra regolette possono fare delle cose che gli altri non possono cioè durante la pandemia hai potuto fare delle robe che per me erano impossibili per esempio per esempio uscire durante la pandemia i giornalisti potevano uscire chiaramente come tutti coloro che avevano compravate esigenze lavorative ecco però non mi risulta che bastasse il tesserino dell'ordine dei giornalisti per andare in giro liberamente ma appunto credo che bisognasse dimostrare di avere un servizio assegnato ecco il cittadino di Lodi in particolare durante questo periodo è stato fatto in smart working mi risulta che in direzione andasse solo il direttore tuttavia appunto non io è da diciamo da diciamo da ma luglio forse dell'anno scorso e non metto piede alla redazione del cittadino tutto il mio lavoro avviene dall'esterno io in questo periodo ho lavorato in remoto per cui no io non sono uscita per il mio lavoro di giornalista diciamo che se il giornale mi avesse assegnato un lavoro di questo un servizio esterno avrei potuto tranquillamente uscire cosa che ho comunque fatto per la mia professione di dipendente di un ente locale poiché essendo adibita a un servizio essenziale sono andata regolarmente in ufficio io comunque so che tu lavori per il cittadino di Lodi che è proprio lì è stato l'epicentro com'è stato questo periodo in quella zona cioè ti sei resa conto subito che c'era qualcosa che non andava oppure scrivo per il cittadino di Lodi e Lodi è stata al centro della pandemia quindi il paziente uno era di Codugno quindi uno della nostra zona io personalmente non vado a Lodi da prima di Natale però ho avuto comunque modo di essere avvisata che stava succedendo qualcosa di molto grave perché proprio nel weekend in cui è esploso il caso coronavirus avevo appuntamento proprio a Lodi con una mia amica che è presidente della Croce Rossa di Lodi mi è arrivato un SMS dicendo che lei veramente non avrebbe potuto essere presente perché era impegnata con la questione del coronavirus di stare molto attenta e di indossare la mascherina e di prepararmi perché sarebbe stata una cosa lunga quindi ho avuto subito l'input che qualcosa di grave stava accadendo ciò nonostante anche se lei mi ha detto questo io personalmente ci ho messo qualche giorno a metabolizzare la notizia quando sono andata in ufficio il lunedì qualcuno mi ha chiesto se era il caso che io che arrivavo dalla provincia di Lodi andassi a lavorare e io mi sono inalberata perché ho detto ma io non vivo nella zona russa io infatti abito a 40 km da Codugno quindi un po' distante qualcuno invece ha preso molto simpaticamente la mia provenienza dalla provincia di Lodi attaccando sulla porta del mio ufficio il simbolo della radioattività quindi poi progressivamente col passare dei giorni e con con l'arrivo di questi bollettini della protezione civile ho preso coscienza della gravità di quanto sta accadendo però devo dire che all'inizio era abbastanza disorientata parlami un po' dei quei libri insomma io ho scritto un libro solo innanzitutto interamente io la raccolta di racconti in volo che è stata pubblicata nel 2014 dalla casa editrice Gemini Grafica si tratta appunto di un'antologia di nove racconti in cui narro storie prevalentemente di donne alle prese con con problemi quotidiani come la solitudine un amore che non funziona il magari il lavoro che non è sempre all'altezza delle aspettative questa raccolta di racconti è una sorta di percorso tenete presente che l'ho scritta nel corso di un decennio e si intitola in volo proprio perché a partire dal primo racconto fino per arrivare all'ultimo c'è una sorta di apertura il primo racconto è un noir si può dire ecco mentre l'ultimo è una storia d'amore quindi si tratta di il desiderio di volersi vibrare con la fantasia sopra appunto una realtà quotidiana che non sempre è soddisfacente quindi è proprio la ricerca di una maggiore leggerezza adesso in questo momento sto lavorando ad un romanzo che è un lungo e doloroso parto nel senso che ce l'ho in gestazione dal 2016 ho già fatto una prima stesura sono arrivata fino a pagina 80 poi non ero troppo convinta sono andata a un corso di scrittura creativa con la scuola oldene e il docente mi ha detto che la storia c'era però dovevo partire dalla protagonista femminile mentre invece la prima stesura aveva come voce narrante il protagonista maschile quindi adesso sono alla seconda stesura mi confidavo sinceramente nella quarantena per scrivere un po' più velocemente invece mi è successo il contrario nel senso che come molti altri autori non sono riuscita a tirare fuori troppe parole adesso le cose sono migliorate quindi confido soprattutto con l'estate di riuscire a andare un po' oltre il secondo capitolo ecco in questo periodo di mancanza di stimoli perché sostanzialmente si trattava proprio di questo è giunto però un secondo libro il mio editore Enrico Maestri di Gemini Grafica mi ha telefonato e mi ha detto che stava preparando un ebook il primo ebook della storia di Gemini Grafica che avrebbe dovuto raccogliere i racconti degli autori che negli ultimi anni avevano pubblicato con la casa editrice l'iniziativa ha come scopo quella di finanziare l'ospedale Predabissi che è proprio vicino a casa mia e che durante l'epidemia è stata in prima linea nella lotta al coronavirus si è scelta appunto la strada degli ebook perché era l'unica strada sostanzialmente senza spese che avrebbe potuto finanziare per intero all'ospedale abbiamo quindi in nove autori abbiamo quindi raccolto i nostri i nostri lavori l'editing è stato curato da Massimo Zanicchi io per questa raccolta che si intitola racconti al davanzale quindi già dal titolo fa capire che si tratta di una di una raccolta data in tempi di pandemia ho proposto due racconti ecco è stato scelto Florestano cronista di Nera ecco questo racconto è la storia la storia surreale di una competizione fra due giornalisti in una redazione lo spunto è nato proprio durante il corso con la scuola Holden di cui vi parlavo ecco il mio docente era Valerio Millefoglie che è un giornalista di Repubblica quindi ci siamo effettivamente trovati a tutto per tutto due giornalisti diciamo che da subito con Valerio è nato un rapporto abbastanza vivace ecco quello che piaceva a lui c'era molta probabilità che non piacesse a me e viceversa così lui continuava a punzecchiarmi nell'ottica che per scrivere meglio bisognasse uscire dalla propria zona comfort quindi continuava a propormi letture che sinceramente io personalmente non avrei mai scelto questo questo rapporto così vivace appunto così turbolento è arrivato in un periodo in cui io stavo preparando la tesi di laurea infatti a settembre mi sono laureata in discipline dello spettacolo alla facoltà di lettere dell'università di Pavia ero quindi molto impegnata e queste continue provocazioni a un certo punto mi hanno fatto perdere la pazienza così una mattina sono stata presa da una sorta di ibris ho buttato giù lo spunto narrativo di Trovestano cronista di Nera in cui sostanzialmente ironizzavo sul nostro rapporto e l'ho letto davanti a tutta la classe del corso nell'Irarità Generale oggi devo dire che però il metodo di Valerio aveva funzionato perché comunque effettivamente è riuscito a tirarmi fuori qualcosa forse di sopito anche una capacità di battagliare ecco che altrimenti probabilmente sarebbe rimasto addormentato quindi sicuramente il corso mi è stato molto utile e mi ha oltretutto fornito un metodo per raccontare fatti anche più originali basandosi basandomi appunto sulla realtà e sulle interviste con persone reali che potessero offrire degli spunti da poi riutilizzare per la narrativa secondo te torneremo al mondo di prima o è tutto cambiato per sempre? non lo so io penso questo negli inizi del novecento è uscita l'umanità è uscita dalla spagnola la spagnola mi risulta che abbia avuto tre picchi la gente andava in giro con le mascherine c'erano chiusi i bar i teatri i ristoranti quindi questo che sta accadendo col covid era tutto già visto quindi io presumo che anche noi usciremo dal covid e ricomincieremo a fare una vita abbastanza normale dopo la spagnola ci sono stati ruggenti anni 20 quindi io mi auguro di assistere ad un periodo di rilancio culturale e sociale e soprattutto economico perché effettivamente in questo periodo stiamo soffrendo parecchio che poi il mondo sarà proprio quello di prima questo anche questo non lo so io mi viene in mente una frase di Eraclito non si ritorna mai nello stesso fiume sicuramente ci sarà qualche cambiamento come da tutte le fasi epocali della storia però dire adesso quale sarà è abbastanza difficile quindi diciamo che questa domanda mi rimane un po' sospesa quello che mi chiedo sempre è se abbiamo imparato qualcosa dalla pandemia o no tu che dici non so se usciremo da questa pandemia che avremo imparato qualcosa io credo che sia una cosa estremamente soggettiva perché alla fin fine c'è chi è capace di crescere dalle proprie esperienze chi rimane ingessato nella propria nel proprio piccolo mondo quindi francamente mi sembra molto prematuro dire se impareremo qualcosa dalla pandemia diciamo che io me lo auguro ecco per quanto mi riguarda io quello che ho potuto notare è che questo tempo di sospensione mi ha permesso di capire che se avessi dovuto rifare le scelte che avevo fatto probabilmente le avrei rifate uguali ecco per cui tutto sommato dal mio punto di vista cerco di affacciarmi il più possibile con fiducia al futuro adesso domanda piacere di pure tutto quello che vuoi che ci sta seguendo ok diciamo che vedo che adesso il video sta andando per le lunghe per cui cercherò di essere sintetica quello che mi preme di dire è di cercare le persone di cercare di non cedere alla depressione che in questo periodo rischia di affacciarsi in modo pesante bisogna farsi forza cercare di non cedere a quel malessere interiore che ti porta a non aver voglia di far nulla o a vedere tutto nero a pensare a tutto il male del pianeta e cercare di fare affidamento sulla resilienza quindi sulla capacità di affrontare i nostri traumi in questo periodo particolare credo che sia un grande aiuto la cultura e quindi torniamo al punto di partenza la cultura permette al cervello il nostro cervello di non morire per cui investire il proprio tempo in un libro in un buon disco in un'attività che può essere scrivere dipingere visitare un museo online comunque e nutrirsi di bellezza potrà essere un valido supporto per combattere il virus ora un saluto ecco l'ultima cosa racconti al davanzale è in vendita sul sito internet della casa editrice gemigrafica comunque è stato piacere una bella pizza una bella cacchierata e spero di riaverti qui con ospite per una pizza reale quella che sentite intanto è la mia gatta che si sta dando la pazza gioia comunque per voi che ci state guardando mi raccomando non dimenticate di iscrivervi di mettere un bel mi piace e di schiacciare la campanella per essere avvisati nel prossimo video almeno se siete sempre sintonizzati noi ci vediamo nel prossimo ospite e nel prossimo pizza io non vedo l'ora ciao ragazzi cercate un canale pieno di video sul mondo dell'editoria su riassunti di opere note non note e che parli insomma di letteratura cercate la vostra dose settimanale di libri e storie siete nel posto giusto iscrivetevi a Booktopics ogni settimana un nuovo video sul mondo dell'editoria